Il Consorzio Olio di Calabria IGP, presente su tutto il territorio regionale, grazie alle cultivar di olio riconosciute e campione di tipicità e dalle a sapore unico e distintivo. Le cultivar o almeno una delle cultivar presenti in disciplinare deve avere una presenza su tutto il territorio della nostra regione. Il marchio di indicazione geografica protetta per un'azienda, in questo caso parliamo delle aziende olivicole calabresi, è importante perché è un vero e proprio certificato di qualità. E quindi quando si presenta sui mercati si presenta con un olio che è di eccellenza ed è certificato e il consumatore che ha voglia di acquistare un prodotto di eccellenza sa che sotto il marchio IGP trova un prodotto di eccellenza. Sulle tavole dei consumatori oramai c'è un ritorno per i prodotti di eccellenza e genuini, tra questi l'olio calabrese che ormai ha raggiunto standard qualitativi elevati e in Calabria oltretutto rappresenta ben il 30% dell'intero comparto agricolo. Ma l'olivicoltura è anche un marcatore identitario, storico e culturale perché le prime produzioni di olio nella nostra regione risalgono molti secoli addietro. Il Consorzio, inoltre per le aziende che vi fanno parte, garantisce di sfruttare al meglio le opportunità che offre il mercato. Il Consorzio certifica la qualità alla fine, cioè il Consorzio è quello che tutela la qualità innanzitutto perché è vigile affinché tutta quella che è la fase di lavorazione, di produzione del prodotto sia attenente con i dettami del disciplinare. Grazie